Musica Porto i saluti del direttivo dell'Unione Sportiva Bormese a un settore che sta lavorando molto bene da tanti anni e che per iscrizioni, numeri dei ragazzi e attività proposta è uno dei primi settori dell'Unione Sportiva Bormese Quali sono le attività che faremo? Allora abbiamo iscritto due squadre per campionato Under-13 femminile due squadre per campionato Under-14 femminile tre squadre per campionato Under-16 femminile due per campionato Under-18 femminile tre squadre per campionato 3x3 maschile una squadra per campionato interprovinciale bormese una squadra per prima divisione maschile una squadra per campionato di prima divisione femminile le due squadre per campionato sexually una squadra per campionato de la seconda Il premio Peppino Pedronzini è la quarta edizione, ripeto, grazie alla generosità della famiglia di Peppino e a moglie Luciana. Il volley non è lo sport del mio, ma è lo sport del noi, quindi vuol dire che si vince, si perde, si gioisce, che si entusiasma tutti assieme. Buona stagione e soprattutto buon divertimento. Grazie.